Aveva denunciato la figlia per i presunti e continui maltrattamenti in famiglia fino a farla arrestare, ma davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, Alessandra De Marco, ha ritrattato le accuse spiegando che voleva punire la prole e che le condotte maltrattanti non erano altro che pesanti litigi. Protagonista della vicenda giudiziaria è un'anziana di Corfinio che starà ascoltata l'altro giorno dell'ambito del secondo incidente probatorio relativo all'inchiesta chiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica. Era un periodo particolare, dovevo continuamente rispondere ai continui litigi per difendermi, non ne potevo più pur di recuperare serenità, volevo in quel momento che i carabinieri mettessero paura a mia figlia, ha confessato la donna, rischiando l'imputazione quantomeno per calunnia se non fosse per l'età. Il castello delle accuse era infatti pesante e dettagliato. Secondo l'imputazione, con una condotta perdurante dall'estate del 2021, la figlia avrebbe posto in essere con cadenza quotidiana ripetuti atti di violenza fisica e psicologica nei confronti degli anziani genitori, soprattutto nei confronti della madre. Nell'estate del 2021 le avrebbe lanciato una bottiglia in pieno volto, cagionando le lesioni non refertate. Il 4 settembre del 2021 avrebbe impedito alla madre di uscire dalla propria camera da letto, di chiedere aiuto, bloccando la porta con il manico della scopa, impossessandosi del telefono cellulare. Il 4 dicembre avrebbe aggredito il padre con dei cuscini, mentre la sera del 14 e la mattina del 15 dicembre sarebbe entrata nella camera da lettori e genitori mentre dormivano e avrebbe sputato sul volto della madre. L'indagata, una 56enne della zona, era stata allontanata dalla casa familiare per poi finire in carcere ai domiciliari. A seguito della violazione della misura, per accudire a suo dire il padre malato. Tuttavia l'anziana davanti al giudice ha cambiato versione, rimodulando le accuse e facendo intendere di aver calcato la mano, spiegando che se avesse conosciuto le conseguenze penali non avrebbe mai denunciato a procura e GIP il compito di trarre le dovute conclusioni.